Salve a tutti e benvenuti in questo ultimo, per davvero, episodio di Track to Yomi, il mio let's play walkthrough di questo indie appena uscito ambientato nel Giappone feudale e che involve demoni, samurai, yomi, al di là, kami, tutto quanto. Siamo pronti per concluderlo, ci manca solo, tecnicamente, l'ultima boss fight. Prima di tutto però leggiamo il diario aggiornato, affronta Kageru. Sono tornato nel luogo della mia morte. Nello Yomi, i secondi duravano ore. Non so quanto tempo ho passato in quelle profondità afflitte, ma qui non sono passati che pochi istanti. Kageru sarà ancora qui. So di essere pronto. Ok, andiamo. Di qua non posso andare, è crollato tutto. Posso tornare indietro? Uh, sì. E c'è? Ok, delle frecce. Niente di particolarmente succoso. Dovremmo combattere ancora? Nuovo collezionabile trovato. Uh, durerà ancora tanto? Allora questo capitolo ho visto tutti quei collezionabili. Conchiglia Kayawase. Le due parti della conchiglia che mi vennero donate molti anni fa. Un ricordo del matrimonio dei miei genitori scomparsi. Quelli che ne donarono da bambino che noi abbiamo trovato. Qui. Eccola qua, la conchiglia Kayawase. Nel primo capitolo. Dovrebbe rappresentare i miei genitori? O meglio, il dipinto su questa è ancora integro. Dovrebbe rappresentare i miei genitori? Chi è che li divide, qui? E perché qualcuno avrebbe voluto opporsi alla loro unione? Se il loro amore era proibito, non c'è da sorprendersi che il maestro Sanjuro non ne parli. Mmm, amore proibito? Chissà cosa hanno fatto i suoi genitori. Qua intanto abbiamo un riciclino di mappe, ma va bene, ci sta. Diario aggiornato. Se il tempo per la mia gente non è passato, forse qualcuno sarà ancora vivo. Dovrei salvarli dal massacro se possibile, sebbene nulla dovrà impedirmi di reclamare la testa di Kageru. Chissà se alla fine ci sarà una scelta ancora da fare riguardo al uccidere Kageru oppure salvare qualcuno. Che abbiamo un nuovo collezionabile. Una sorta di ventaglio. Pezzo di Hiyoji. Un vero miracolo. Questo è ciò che resta del ventaglio Hiyoji di mia madre a completare il frammento che trovai quando ero un bambino. Che forse noi non abbiamo trovato allora. Esatto, è quello che ci mancava. Il frammento di ventaglio, sicuro. Un momento, riesco a contare 39 lame in totale. Ciò vorrebbe dire che questo ventaglio apparteneva a una donna dal sangue imperiale. E questo significherebbe che il sangue imperiale scorre nelle mie vene. Ah, forse era perbito perché lei è sangue imperiale e invece suo padre non lo era? No, suo padre non era nobile? Chi lo sa? Noi intanto andiamo di qua e prendiamo questo kunai. Bo kunai. Cioè bo shurike. Continuo a chiamarli kunai perché sono influenzatore da Naruto, capitemi. Brigante? Ehi! E mi riprendo vita, facendoti una bella combo e un mossa finale. Oddio. Tutto bene? No, non credo. Andiamo avanti. C'è nessuno qui? Ma certo, ci sono io. Salve! Scusate, sono arrivato tra il... Un po' all'improvviso. Ah, brucioli! Tu mi farai riprendere un po' di vita, vero? 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 Sì. Bene, così. E si prosegue. Poi posso aiutarvi? No, posso solo rubare il collezionabile che avevate vicino. E leggerlo alla faccia vostra. Pezzo di Kiseru. Era il ventaglio? Non era il ventaglio. Finalmente, la parte mancante della pipa di mio padre. L'ho cercata per decenni. Le incisioni potrebbero rivelare qualcosa sul suo rango. Un momento. Non ci sono affatto incisioni. E quanto di più umile possa esistere? Questo farebbe di lui un comune cittadino. Nient'altro che un semplice popolano. Non c'è da vergognarsi. Dopotutto, la gente comune è quanto vi sia di più importante. Ok, va bene. Come aveva intuito. Quindi suo padre non era nobile. Quindi forse per questo il loro amore era proibito. Allora, posso salire di lì oppure posso andare giù? Vediamo se salendo posso magari distruggere qualche... Ucciderli con qualche pericolo ambientale. Questo ha combattuto con più grinta degli altri. Ma di chi sta parlando? Esatto. Posso distruggerli così. Addio. Qui abbiamo delle frecce. Quanto è veloce questo! Non abbastanza a quanto pare. E qui possiamo uscire di nuovo. E ritornare qua. Esattamente. Però voglio salire ancora una volta. Ed esplorare meglio l'ultima zona. Questa qui. Addio, non si può andare. Però di qua forse si può uscire. Nope. Qui ci sono le solite frecce. Di qua non posso scendere. Ok, era una strada obbligata comunque. Altro duello. Con una lancia. Una lancia però a cui faccio la mossa finale. Bel kunai. C'è un bel boschuriken di nuovo. Ma io non volevo uscire. Volevo andare di qua. Allora lì si può salvare. A questo punto no. Usciamo. E prendiamo questo che potrebbe essere un collezionabile. Esatto. Mandato di esecuzione. E così è questo che Sanjuro mi ha tenuto nascosto per tutti questi anni. Una lettera che ordinava la morte dei miei genitori. E questo sigillo è chiaramente di provenienza imperiale. Dunque la mia storia è finalmente svelata. Sono un orfano semplicemente perché una persona nata nella ricchezza e nel potere ha così voluto. Ho vissuto una vita nello smarrimento consacrata ai lavori più umili. Quando invece avrei meritato di regnare. Forse un giorno avrò ancora modo di farlo. Ah però... Vabbè è una cosa che avevamo intuito. Cioè lui ha sangue reale. Quindi doveva regnare. E qualcuno non ha voluto che regnasse. Perché aveva sangue sporco. Cioè nel senso era un mezzo sangue. Non era il sangue imperale totale. No, non sparare tu eh. E ha sparato comunque. Mannaggia lui. Petro, non puoi andare più indietro di così e te eh. Sacca! Pure tu vieni. Aia! Aia! Ok, mi ricarico un po' di vita perlomeno. Però io qui volevo anche andare a vedere cosa c'era qui sotto allora. Perché se di là si va avanti. Qui cosa c'è? Dai, spostati! Ok, qui sotto infatti c'è... La capacità proiettile aumentata, va bene. Mettiamoci questo, va. Perché c'è un obiettivo che dice di uccidere, tipo se non sbaglio, tre persone con un colpo di quello. Vediamo se ci capita l'occasione di farlo. Uh, boss fight. Mini boss fight. Mini boss fight. Aia! Che botta! Ed è andato pure lui. Attacco con rotazione leggero antiarmatura. All'indietro X più avanti Y. Attacchi con rotazione conclusi da un attacco pesante che causa stordimento. Utile. No, aspetta, così. Ok, questo, credo. No, questo è l'attacco leggero. Non me la fa. Ah, più avanti Y, ok. Questo, va bene. Questo qui, va bene, ok. C'è qualcuno. Ci sono io, vi posso salvare? Oppure posso portarvi ancora più morte e distruzione. Esatto. Ho capito, ma là qua, come esco. Qua posso salire ancora, ok. Mentre di qua. Vai, ti salvo. Già, mai. E qui c'è saluta aumentata. Ottimo. La ricompensa migliore che possiate darmi. E si sale. Munizioni prese. E questo è un altare. Perfetto. Ma te? Cosa bevi lì? Con calma. No, ma visto. E te, invece, mossa finale. Come è morto male, quello. Non posso entrare lì. Mi ha tolto tantissima vita questo tipo. No! Hanno ucciso qualcuno là. Qui non mi sembra ci siano collezionabili o altro. Io qua salvo. Mi ricarico pure la vita. Altro combattimento? Sì! E' altra mossa finale. E altra mossa finale. E altra mossa finale. Proseguiamo. Eccomi. Ma va a cagare. Ma va a cagare. E niente. Ah, evitato. Ma quanto ti sta bene. Aia. Oddio, qua distruggono tutto. Via, via, via. Si salva. Si recupera la vita. Salve, cavallino! Anche a te. Ma basta però, eh. Va bene. Quanto vi sta sul culo, eh. Che vi ho ammazzati. Comunque è perforante. Ora forse so come ucciderne tre in un colpo. Se ne avrò la possibilità. Appunto sempre se me ne danno la possibilità. Qui abbiamo quest'abitante. Che non mi dice nulla. Miii. Impiccati così, che brutto. Vediamo se in questa casa c'è una sorta di collezionabile. O qualcosa da prendere. Comunque un vicolo cieco. Ok, sì. Munizioni. Altre munizioni. Solo munizioni qui dentro. Non c'è un collezionabile, davvero? Ma che sfiga. Niente, allora se ne andiamo. Che ci vuoi fare? Di qua non si può andare. Tipo questi, no? Potrei poterli così. No, sono due ne ho presi. Ma dai. Aia. Niente, ho provato a ucciderne tre insieme, ma non ce l'ho fatta. Qui di nuovo munizioni per gli archi. Inutili a noi. Bene, così. Non ci servono gli archi a noi. Aia. Quanti tercieri c'erano? Poi boh. Morti tutti. Noi salviamo. Ci prendiamo munizioni. E... Possiamo entrare qui. Sono rimasto io. Bene, così. Ma... Ah, qui non... Si va avanti proprio, allora. Aia. No, no, no. Mi sono infugnato una cosa pessima. Devo ammazzare questo. Ok. E poi posso occuparmi di voi. Ma ho ucciso? Davvero? Boh, stavo parando, ma a quanto pare mi ha fatto comunque danno. E allora, proviamo prima di andare di qua. A vedere cosa c'è. Ah, non c'era nulla, ok. Era proprio l'unica strada possibile questa. Ok. Ora qua mi preparo, però. Ho ucciso qualcuno? Mi sa di sì. Vabbè, mi hanno tolto. Vabbè, ok. Mi hanno tolto 350.000 HP a caso. Perché mi hanno fatto... Mi hanno colpito in combo completamente a caso. Dai. Queste sono delle pippe. Vabbè. Che ti stordisca, però, è proprio stupida come cosa, no? Guarda. Continua a perdere un sacco di HP qua. Basta! Ok. E poi arriva quello con la lancia. Che si merita. si meriterebbe se non facessi cacare. E se questo colpo funzionasse anche contro le lance. L'ho ucciso. Di nuovo. Ma... Boh. La parata è completamente inutile contro quell'arma lì, allora. È davvero letteralmente inutile. Non puoi rollarli addosso. Non puoi pararti. Guarda. Perdi un sacco di vita a casissimo. Ok. Vabbè. Ti colpisci da in culo ai lupi. Prenditi sto colpo in faccia, va? E muori. Oh. Mi sarei anche leggermente rotto di morire contro questo nemico. Collezionabile. Bene. E ne ho mancato uno. Mannaggia. Tsurugi. Un'antica spalla bruciata e danneggiata l'avano già trovata nel capitolo precedente. Comunque la Tsurugi. Guardala qua. Ricorda il kami guerriero Futsunushi. Perfino il suo nome è il suono di una lama che fende l'aria con colpi precisi e letali. Questo spirito è nato dal sangue che colava dalla spada che aveva ucciso Kagutsuchi. Fu suo padre Izanagi divorato dal dolore a uccidere Kagutsuchi, colpevole di aver ustionato a morte sua madre Izanami, consegnandola allo Yomi. Per quanto taluni vedano onore in questo kami, io so che Futsunushi è lo spirito della rabbia e della vendetta ed è a lui che mi rivolgo nel compiere il mio destino intriso nel sangue. Va bene bro. La prospettiva. Ho per crepare qua. Però lì c'è qualcosa che vorrei prendere. Ecco grazie, nuovo collezionabile trovato. Kang Kekoshu. Gli scritti di Tenjin, il kami dello studio, dei tempi in cui assunse sembianze mortali nei panni del poeta di corte Mikinaze. Tenjin è noto ora come uno spirito di grande saccezza e pazienza, ma un tempo fu uno spirito vendicativo che punì coloro che, con le loro bugie, lo privarono del suo potere e lo condannarono a una morte solitaria. Solo dopo numerosi decessi misteriosi e prematuri dei suoi oppositori e dei loro familiari, la sua reputazione venne riabilitata e il suo spirito venne venerato come kami Tenjin. Mikinaze non perdonò e neanche io lo farò. La vendetta è forza e con essa triunferò. Va bene? Uff. Un sentiero finalmente. Come l'ho detto. l'energia aumentata. RIP, bro. Oh, bisogna stare attenti qua, eh. Eh, mo' come faccio ad andare? Cacchio, sono rimasto pregato. Ma smetterà di bruciare questa cosa? Non credo. Niente, bisogna correre. Bisogna semplicemente correre. Ok, passato il momento corsa. Spettacolare, bella, eh. Ma, boh, un po' inutile. Ok, altre munizioni per Rotsutsu. Qui troviamo sicuramente qualche collezionabile. Esatto, un nuovo collezionabile trovato. L'ultimo. Tazza di sake. L'incisione della libellula simboleggia la forza di Jimmu, il primo imperatore, discendente divino del Cami del Sole a Materaso. Fu lui a fondare questo grande impero, restando saldo di fronte, non di fonte, a innumerevoli nemici e ostacoli. Mentre egli era intento a rimirare la terra su cui era nato per governare, una zanzara tentò di succhiare il suo sangue sacro. Aia! Ma venne afferrata mezz'aria da una libellula. Per questo, questa terra è ora nota come Akitsushima, le isole della libellula. La libellula comprese il suo dovere, così come fece Jimmu e come faccio anche io. Bisogna andare avanti per affrontare la morte ancora una volta per il bene di tutti coloro che hanno sofferto a causa di uomini come Kageru. Ok. Qui abbiamo munizioni per rifullarci. Stavolta Kageru non avrà scampo. Eccoci ritornati al dojo dove tutto è iniziato. Mettiamoci magari l'arco. Bel filmato. Eccolo. Eccoci Vabbè non può essere già finita la boss pet Scusatemi È palese Che adesso tipo si trasformerà in un demone O qualcosa del genere Per l'appunto Eh come faccio Ah vabbè Come faccio a non prendere danno lì scusatemi Girati Ma girati Ma che cagata Eh va bene bravo adesso Ah mi ha mandato contro i tirapiedi Ok Emo però è un problema Ah ucciso E questa volta ho ucciso di sicuro perché ho sentito il suono dell'obiettivo Un altro obiettivo Anche se non stanno aprendo a schermo quindi non so per cosa li stai prendendo Probabilmente per aver finito l'ultimo capitolo o aver battuto lui E aver finito il gioco Ah ecco Escono ora Oh un po' di pace per quest'uomo Finalmente Finalmente Adesso si è finito Adesso si è finito Esatto Cioè ci sono i titoli di coda che come sempre lascio passare perché è giusto comunque dar credito alle persone che hanno lavorato questo videogioco Allora nel frattempo A parte il professor minchiare che passa Dico qualche mia considerazione sullo studio sviluppato da Flying Wild Hog Cioè sul gioco sviluppato dallo studio Flying Wild Hog E pubblicato da Devolver Digital Allora per me questo è un buon indie Ok nel panorama indie questo io lo classifico come buono Ha un combat system che dà soddisfazione È artisticamente molto ispirato E penso che siano questi due i pregi principali Lato artistico Comparto artistico E combat system Per il resto Allora Come ottimizzazione non mi sembra questo granché Perché sto giocando su una 3080 E il gioco in alcuni punti scattichiava In più come grafica Non è che sia proprio eccelsa Cioè hanno mascherato molto bene le risorse limitate Usando dei filtri come il bianco e nero Il filtro filigrana Tutte queste cose qui Che hanno un po' mascherato La carenza dal punto di vista tecnico Sulla trama c'è poco da dire Secondo me è una trama abbastanza classica Semplice Non si lancia in strafalcioni Non è una trama particolarmente complessa È una trama molto semplice Lineare Si seguono sempre solo le sorti Del nostro protagonista Hiroki C'è un time skip Si parte nel primo capitolo Che è un bambino Poi nel secondo capitolo Che è un adulto E poi da lì La storia prosegue abbastanza linearmente E per di più In tempi anche molto brevi Tutta la vicenda Penso che si Svolga in una giornata Sì Una giornata essenzialmente Perché quando battiamo l'ultimo boss È notte Quindi non è ancora Arrivata la giornata successiva Le boss fights sono carine Quello sì Sono delle buone boss fights Per un combattimento Per un gioco che sceglie Di avere un combat system In 2D In quel modo Dico che quasi quasi Me lo rigiocherei anche Se non avessi O tre mila altri giochi Grazie al game pass Da giocare Se avessi Se l'avessi comprato Questo Me lo rigiocherei anche Volentieri Sinceramente Beh che dire Se si vuole giocare Dare un voto al gioco Un 8 Questo se lo piglia tutto Appunto Pensandolo nel panorama Degli indie E collocandolo nel panorama indie Se no Parlando di In generale Questo Per me è comunque un 7 Cioè un buon gioco È un gioco discreto Bene Mentre passano Credo che siano Coloro che hanno Tradotto il gioco Forse Eccoli qua Posso anche dirvi Che ve lo consiglio Se avrete visto Anche tutto il gameplay Comunque Vedete che non è un gioco Particolarmente difficile Ci sono giusto Alcuni punti Un pochettino Ossici Specialmente Nel quinto capitolo Quello è stato Quello più Duro Per quanto mi riguarda Ma comunque è un gioco Che possono giocare tutti In caso si può mettere Anche la difficoltà più facile Noi abbiamo giocato A difficoltà normale Ecco qua Finiti pure i titoli Di coda Possiamo magari Fare una selezione Del capitolo No Non possiamo nemmeno Andare su continuo Possiamo fare solo Nuova partita Però abbiamo sbloccato La difficoltà Kensei Per chi ama variare Qualsiasi cosa Esclusi i boss Può essere sconfitta Con un singolo colpo Incluso te Ah Quindi questa è la difficoltà Un colpo Cioè con un colpo crepi Devi essere perfetto In tutto Ok Capito Interessante Non lo farò Non lo farò Però Secondo me Una cosa in cui pecca Questo gioco È la mancanza Di una selezione Dei capitoli Non puoi selezionare Il capitolo Che vuoi per giocarlo Devi ogni volta Ricominciare la partita All'inizio Questa è una cosa Un po' Poco accessibile Comunque Detto ciò Il video E la serie Finisce qui Ti ricordo di mettere un mi piace Se il video ti è piaciuto Di commentare E di iscriverti al canale Per non perderti i prossimi caricamenti Da Glacial Sphere È tutto Al prossimo video Per non perderti i prossimi caricamenti